Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura è dedicata all'arrivo triunfale, oggi a Gela, dell'atleta Monica Contrafatto. Medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. La bersagliere è stata accolta al teatro Eschilo da una platea entusiasta e commossa. Il vero disabile, ha detto Monica, è chi ci considera tali. Sentiamo. Il vero disabile è chi ci considera tali. Il corpo è soltanto un involucro, noi siamo la nostra anima. Parole lapidarie, quelle di Monica Contrafatto, sincere e piene di speranza, rivolte ad una platea attenta e commossa. È così che la città di Gela abbraccia l'atleta, la sua campionessa olimpica nello sport e nella vita. L'emozione provata in quel momento sul podio è l'emozione che invece stai vivendo adesso su questo palcoscenico davanti alla tua città. Diciamo che nel momento sul podio ero irrazionale, si vede, si vede, si è proprio esterica. È stato bellissimo là. Qua diciamo che sono un po' più razionale, quindi vedere oggi tutta questa gente per me sono proprio contenta. A parte ero contentissima quando ho saputo che Gela mi avrebbe seguito, quindi mi ha spinto pure ad arrivare al traguardo. Monica, quando ti sei resa conto di avere una grandissima responsabilità perché portare colori dell'Italia, della Sicilia, di Gela e soprattutto lanciare un messaggio importantissimo, che cosa hai pensato? Che non potevo fermarmi prima del traguardo, quindi tutte queste cose. In realtà è più il messaggio che tutto il resto, perché in realtà a volte ho conosciuto persone che si sono arrese per molto meno. Quindi io penso che magari, così come le mie amiche, così come tutte le parolimpiadi, poi alla fine servono a lasciare un messaggio magari a chi sta dietro la televisione e dire va bene, io anche con una gamba in meno, una gamba in più, due gambe in meno, poi alla fine posso fare della mia vita un film, un bellissimo film. Così come ho fatto io quando stavo nel tuo ospedale, mentre guardavo la Chironi correre, dicendo che voglio diventare anch'io come lei. E così ho fatto. Io spero che qualcuno abbia visto le paralimpiadi, magari qualcuno che magari a livello psicologico non ce la fa, perché magari si sente inferiore quando in realtà non è così. Perché comunque il corpo è un involucro, l'animo sta dentro e magari possa dire, ok, loro ce l'hanno fatta, ce la voglio fare pure io. Tu sei giovanissima, però hai già vissuto una vita assolutamente avventurosa, con delle esperienze che davvero forse un essere umano non raccoglie a volte in tutta la sua vita. Il momento più bello, il momento più brutto è se rifaresti tutto quello che hai fatto? Allora, il momento più bello è quando mi sono ruolata, perché era il sogno mio di una vita. I momenti brutti non ce ne stanno, perché ogni momento brutto poi alla fine ce ne è subito un altro ancora più bello. Diciamo che quando ho avuto l'attentato ho pensato subito che non potevo fare più il mio lavoro, pensavo anch'io che magari mi sono chiesto adesso e ora cosa faccio. Poi in realtà per quanto poteva essere brutto quel momento, subito dopo mi si è aperto un portone con una luce immensa. Quindi in realtà ho tanti momenti belli che hanno soffocato quelli brutti. Condividi con noi un sogno nel cassetto, se ce ne sono ancora. E continuare, io poi alla fine continuerò, quindi adesso sarà quello di avvicinarmi più alla seconda. Poi in realtà ho medaglia d'oro, bronzo, d'argento, oppure non ho medaglia, poco cambia. L'importante è che nella vita si fa quello che si vuole e quello che si sogna, io presto sto sognando ancora. Il medagliere è stato molto ricco e uno di questi orgogli viene proprio dalla Sicilia, da Gela. Sì, quest'anno la Paralimpiade di Rio è stata veramente spettacolare sotto tanti punti di vista. Il bottino che abbiamo portato a casa è stato veramente il bottino migliore della storia. 39 medaglie con il nono posto nella ranking mondiale, quindi credo che su questo dobbiamo essere veramente molto, ma molto contenti. Ma credo che la medaglia più importante che abbiamo vinto in queste Paralimpiade sia stata soprattutto il grande impatto mediatico che queste Paralimpiade hanno avuto grazie al lavoro di gente come voi che cercate di replicare l'eco paralimpico in tutto il paese e che soprattutto ci ha fatto giungere ai nostri uffici tante lettere, tante email, tante telefonate di tante persone con disabilità e non che vogliono avvicinarsi al movimento paralimpico. Io credo che da qui abbiamo quasi, come dire, stravolto un po' la storia e che quindi abbiamo portato a stravolgere quel paradosso che dalla disabilità vista come un sinonimo di incapacità nasce un grande messaggio di abilità, dell'abilità umana che viene esercitata e viene espressa laddove viene data un'opportunità e quindi credo che questo sia veramente il messaggio grande che queste Paralimpiade e questo evento sta portando. Anche a Gela ci sono delle bellissime realtà sportive che portano avanti i principi, i pensieri, la voglia e la gioia della nostra Monica. Ma sicuramente, tutto nasce, ricordiamola appena, 30 anni si compie la prima fondazione della prima società sportiva per disabili e a quella ne seguono tante altre. Gela Sport proprio, io ero tra i fondatori e abbiamo iniziato la cultura dell'attività del paralimpismo oggi ma dell'attività sportiva per disabili allora. Oggi raccogliamo un successo che grazie a Monica ha messo anche in risalto i colori della nostra città e quindi ringraziamo lei per aver fatto tanto per questa Paralimpiade. Micica, anche voi lavorate ogni giorno per insegnare ai vostri giovani atleti i principi fondamentali dello sport che poi si riverberano nella vita quotidiana. Questa è un'occasione meravigliosa che noi abbiamo accettato volentieri grazie all'assessore Alicia Bella anche perché è stato un momento di incontro con le ginnaste per poter parlare di Paralimpiadi e quindi sensibilizzarle a questo problema. Anche perché loro lavorano ogni giorno per ottenere dei risultati e questo è quello che a noi conta di più insegnare a loro che bisogna ottenere le cose lavorando. Entusiasti per l'arrivo di Monica Contrafatto a Gela, il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Alicia Bella. Sentiamoli. Sindaco, riconoscere le virtù di una donna gelese è importante. Oggi la città rende omaggio ad una grande donna, ad una nostra grande concittadina. Io credo che oggi si deve rendere conto invece alla grande volontà che la nostra paesana ha deciso di metterci per un'impresa non facile, non banale. Io ho avuto modo di conoscere Monica qualche mese fa e devo dire che si stava allenando, non aveva tutta questa certezza ma aveva una gran voglia di essere presente. Il fatto che sia arrivata anche ad avere dei risultati importanti come quelli che l'ha ottenuto è stato sicuramente un qualcosa in più ma in realtà va nel seguire comunque una passione, una voglia di raggiungere una meta importante. Quello che vorrei sottolineare è che è uno di quei messaggi che il nostro territorio sa lanciare, che i nostri concittadini sanno fare. Gela ha delle grandissime potenzialità e che molte volte tutto quello che c'è di positivo in questa città viene messo in secondo piano e non è corretto perché Gela giornalmente riesce a fare grandi e piccole imprese magari non davanti a uno schermo in mondo visione ma che sono il sale che ci consente di andare avanti e di poter cambiare questa città. Una continua scesa quella della nostra concittadina Monica Contrafatto che da semplice ragazza gelese ha poi iniziato la sua carriera militare prima una medaglia d'oro al valore militare per poi arrivare alle Paralimpiadi di Rio conseguendo la medaglia di bronzo che è sicuramente l'evento che ci sentiamo oggi di voler festeggiare. Gela è come una comunità aperta dove tutti hanno avuto la possibilità di dare il proprio apporto quindi tantissimo il calore che i gelesi stanno mostrando e il sentire è proprio quello di voler dare un grazie corale unico a Monica, dei club service, ai maestri siciliani che hanno donato un'opera importantissima fino insomma a tutta la partecipazione delle associazioni che è in massa sono venute qui al teatro. Apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di arresti e denunce eseguite a Mazzarino e a Gela. In manette sono finite otto persone condannate dalla Cassazione per violenza su una minorenne. Vediamo. Diventa definitiva la condanna per otto persone originari di Mazzarino accusate a vario titolo di violenza sessuale e tentata a prostituzione su una minorenne. Gli otto dopo la condanna emessa dalla Cassazione sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, Vila Novadasti, Catania e Ragusa. La corte d'appello di Caltanessetta li aveva condannati a pene che oscillano tra i 4 e i 6 anni. Gli imputati finirono nei guai nell'ambito dell'operazione del 2007 denominata Sin City. Fu il padre della vittima, allora minorenne, a raccontare tutto ai carabinieri. Gli otto in più occasioni avrebbero approfittato della ragazzina quando aveva ancora 12 anni. La vittima in fase di audizione confermò tutto indicando anche i particolari dei luoghi in cui subiva le violenze. In carcere sono finiti Angelo Ferrigno, 58 anni, Salvatore Chiolo, 67, Luigi Azzolina, 49, Giuseppe Portello, 38 anni, Cristofalo Boscaglia, 72, Carmelo Ridolfo Nicastro, 46, Roberto Curisano, 39 anni, e Irina Pricop, rumena, di 30 anni. Dopo le formalità di rito sono stati tradotti nelle carceri di Gela, Caltagirone, Ragusa, Catania e Torino. E nell'ambito di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria e amministrativa del commissariato di Gela, gli agenti hanno arrestato due persone denunciandone quattro a piede libero. Filippo Russotto, 49 anni, e Orazio Talarita, di 33, sono stati ammanettati per evasione. Le ordinanze sono state messe dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Un neggialese di 57 anni è stato allontanato d'urgenza dalla casa in cui abitava per continue vessazioni nei confronti della consorte e quanto disposto dalla Procura di Gela. Lesioni personali e minaccia è invece l'accusa di cui dovranno rispondere un 48enne ed un 46enne. Un 19enne invece è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ambito di specifici servizi, la Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito controlli nei locali di intrattenimento della Lungomare e del Centro Storico. Ispezionate due attività commerciali, contestate tre infrazioni e controllate 26 persone. Due auto a fuoco la scorsa notte a Gela nella zona residenziale della cittadella in via Masina. Le fiamme hanno danneggiato una Kia e in via Beltrami, nel quartiere di Settefarine, una Fiat Bravo. Le due vetture appartengono ad altrettanti operai. Gela ha oggi un'amministrazione in carica sicuramente più stabile rispetto ad un anno fa, forte proprio dei risultati che sta raccogliendo in ogni ambito di intervento, in cui è inciso con determinazione e capacità di mediazione democratica nei confronti di tutti gli interlocutori, con cui ha condiviso un percorso per il rilancio del ruolo baricentrico che la città ha nel contesto politico-economico siciliano nel Mediterraneo. Il vice sindaco Simone Siciliano ha preso carta e penna in merito alla vertenza Gela, rimarcando alcuni concetti. L'esponente della giunta messinese dice che i buoni propositi di partiti, gruppi e comitati spontanei non possono rappresentare la traduzione di un messaggio falsato che ci costringe oggi, più che mai, a sottolineare che le informazioni raccolte da loro non sarebbero oggi possibili senza l'azione insistente che la giunta ha portato avanti scavando tra le macerie di una città abbandonata al suo destino. Ai personaggi che a vero titolo da un lato lamentano i disinvestimenti di Eni per poi vantare risultati, Siciliano ricorda che è stata forte l'azione di negoziazione messa in campo da questa amministrazione nel sovvertire un intervento di poche migliaia di euro per l'escavo di un corridoio di uscita temporaneo in un investimento di milioni di euro per il ripristino funzionale di una infrastruttura portuale abbandonata da decenni. Non permetteremo a quei partiti che dopo aver fagocitato ogni linfa vitale al territorio gelese e travestiti poi da agnellini incolpevoli di rifarsi il look nel momento in cui l'amministrazione in carica inizia ad accogliere i risultati positivi di un lungo anno di faticoso lavoro di ricostruzione. Siamo disposti di marca Siciliano ad avviare un percorso programmatico condiviso fermamente agganciato all'azione di governo basata sui pilastri già messi in campo in un anno di governo da questa amministrazione. La Giunta Comunale intende rassicurare al territorio tutto ed in modo particolare il Presidente del Coordinamento Donne per il Territorio e il Segretario Locale del PD dando conferma dell'esistenza di un progetto di sviluppo su cui si basa il redigento accordo di programma già da tempo condiviso con parti sociali, datoriali, imprese e l'intero Consiglio Comunale attraverso le commissioni consiglieri competenti e attraverso l'attivazione di un percorso di ascolto territoriale condotto da Nomisma e da Invitalia e coordinato in sinergia da Ministeri, Regione e Amministrazione Comunale per lo sviluppo di un'analisi di contesto basata proprio sui processi di partecipazione con gli attori sociali ed economici del territorio e di cui il coordinamento delle donne è stato un attore privilegiato. Rimane l'arrammarico, chiude il Vice Sindaco, che la smania di protagonismo di alcuni soggetti in cerca di visibilità elettorale sia arrivata solo nel momento in cui stiamo per raccogliere i frutti di un intenso lavoro durato un anno, con il rischio di rappresentare verso l'esterno una comunità non coesa sull'obiettivo finale, salvare Gela. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli allunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico. 2013-2014 lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali e all'istruzione Licia Abela. I beneficiari degli aventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. Cresce l'attesa per il concerto di questa sera a Biancavilla in provincia di Catania di Monsignor Marco Frisina, fondatore del Coro della Diocesi di Roma. Composto da oltre 250 elementi, anche il Coro Perfetta Letizia di Gela avrà l'onore di essere diretto da Frisina assieme ad altri con cori in onore di Maria Santissima dell'Elemosina, madre della misericordia. Monsignor Frisina dirigerà i cantori in un repertorio di brani tra cui canti per la liturgia, colonne sonore e opere musicali scritti da lui stesso tra il 1989 e il 2015. Consigliere, un altro piccolo obiettivo è stato raggiunto. Lei nel corso di questi mesi ha prodotto diversi documenti che riguardano il decoro della città. In questo caso abbiamo ottenuto un intervento in via Tevere. Sì, ieri finalmente sono state tolte le bottiglie e i sacchetti che si trovavano sugli alberi in quanto essendo troppo lunghi le persone hanno messo questi pesi per fare in modo che i rami non gli entrassero in casa. Finalmente ieri dopo che è stata fatta e reclamata questa situazione sono stati tolti, sono stati tagliati gli alberi e inoltre è stato tolto anche il pannello pubblicitario che risultava alquanto pericoloso in quanto era distrutto e poi tutto arrugginito. Adesso il prossimo obiettivo quale sarà? Noi ricordiamo un documento che ci inviò qualche tempo fa invece su una gestione più globale della situazione del decoro e del verde pubblico. Sì, ancora aspetto che questa mozione venga discussa in Consiglio Comunale. ho presentato appunto un documento dove chiedevo all'amministrazione di censire tutte le aree pubbliche, aree verdi pubbliche e darle in affidamento alle scuole e alle associazioni per un insegnamento appunto riguardante l'alimentazione e l'educazione ambientale e poi alle attività in quanto appunto curando il decoro urbano potevano affiggere un logo della propria attività e quindi sponsorizzare il proprio operato. Oltre questo anche ai privati in modo tale da avere uno sgravio della Tasi. Quanto ci vorrà per discuterlo? Allora, credo che venga discussa il prossimo mese, sperando che non cada nuovamente il numero legale e quindi finalmente si potrà ottenere qualcosa di positivo, spero e mi auguro. Partono da oggi a Gela i festeggiamenti in onore di San Francesco, promossi dalla parroco Don Giorgio Cilindrello alle 17.30 scampanio festoso, esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica animata dai ministri straordinari. Alle 18.45 canto dello stellario alla Beata Vergine Maria Immacolata e alle 19 eucarestie catechesi dettata dal parroco animata dal cammino neocatecumenale. Domani alle 8.30 celebrazione eucaristica, alle 10 accoglienza dei ragazzi del catechismo e celebrazione eucaristica. Alle 18.00 scampanio festoso e preghiera del rosario e alle 19 eucarestie catechesi dettata dal parroco animata dal cammino neocatecumenale. Martedì 4 ottobre alle 9.00 nel plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela si terrà la festa di San Francesco e dei Nonni promossa dall'Istituto Comprensivo San Francesco diretto da Giovanna Palazzolo. Parteciperanno gli alunni di entrambi i plessi dell'Istituto Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado nell'occasione Don Giorgio Cilindrello. Benedirà gli animali domestici di piccola taglia degli alunni della scuola. Inoltre si svolgerà la Sagra del Dolce. Enedicola, il Corriere di Gela, settimana all'indipendente di attualità politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Porto rifugio figlio di tanti padri. Dopo il via libera della regione, la firma del protocollo 5.800.000 euro per renderlo fruibile partendo dalla rimozione della sabbia dai suoi fondali. Cantano vittoria un po' tutti, come accade quando c'è la politica di mezzo, il servizio d'apertura della prima pagina di Nello Lombardo. Il Consiglio dice sì al pagamento alla Tecra dei debiti fuori bilancio con il solo voto contrario del consigliere di Forza Italia Toto Cerra. Fuori dall'aula, il gruppo del Movimento 5 Stelle. Parte il viaggio nell'universo femminile in politica. Questa settimana Zaira Placenti incontra il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascia, nella sua rubrica politicamente scorretto, le spigolature di Giulio Cordaro, che prende spunto da alcune vicende locali, regionali e nazionali di forte impatto sociale e politico. Lo sport con i servizi di Orazio a comando sul Gela Calcio e di Zaira Placenti sul Terranova. In ultima, come sempre, la pagina degli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Anche quest'anno, in concomitanza con le celebrazioni del dono dei 2016, istituito dal Parlamento italiano, torna in 5.000 piazze italiane la Mela di Aism, l'iniziativa di solidarietà che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multiple e della sua fondazione FISM, nasce per garantire sostegno alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Volontari presenti anche a Gela, sentiamo. Tornano in piazza le mele Aism per aiutare la ricerca? Sì, i 10.000 volontari saranno presenti in più di 5.000 piazze italiane. Anche a Gela e in tutta la provincia di Caltanissetta, i volontari scendono in piazza per la ricerca scientifica. I fondi che noi raccogliamo attraverso la Mela di Aism serviranno sia a finanziare la ricerca scientifica sia per sostenere dei progetti dedicati ai giovani. I giovani sono i più colpiti da questa malattia. E' proprio perché sono i più colpiti da questa malattia che decidiamo di fare una prevendita di queste mele anche nelle scuole. Le scuole che ogni anno qui a Gela mostrano la loro solidarietà e il loro impegno. Come sta andando la ricerca? Quali sono gli ultimi risultati scientifici? E quando i cittadini potranno trovarvi per tutta la giornata di oggi, gli orari? Sì, la ricerca va avanti. La ricerca è stata importantissima per trovare delle terapie che possono rallentare la progressione di questa malattia. Ci sono anche dei progetti che stanno portando avanti per le forme progressive, perché purtroppo non c'è una cura risolutiva per questa malattia. Ci troverete in piazza la giornata di oggi di sabato, domani domenica e anche la giornata del 4 di ottobre. Saremmo nei supermercati, qui in piazza e ci troverete qui a disposizione di chi volesse, ripeto, acquistare queste mele. Da oggi fino al 10 ottobre sarà allestita nella sala della clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela la mostra di arte con pitture e fotografie inedite del collezionista Franco Pardo, l'iniziativa del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. Le immagini raccontano i festeggiamenti della Pasqua in città e si completano con personaggi e frammenti della Gela Antica dove sono catturati vicoli ed edifici ormai cancellati dal progresso. Il collezionista Pardo ha pensato di omaggiare la clinica con le sue opere come ringraziamento delle cure ricevute negli ultimi cinque mesi di ricovero presso la struttura di Macchitella. Apriamo la pagina dello sport. Sport calcio trasferta in Campania domani per il Gela la squadra del tecnico infantino sarà di scena a Gragnano. Obiettivo tre punti lo dice il portiere Moreno Saitta. Sentiamo. Si gioca a Gragnano su un terreno ostico. Tutte le partite in Campania e in particolar modo nel Napoletano presentano difficoltà oggettive. Il clima da quelle parti è caldo, molto caldo e il Gela questo lo sa. Ma i biancazzurri quando si trovano dinanzi ostacoli danno il 100%. L'impegno e l'attaccamento alla maglia, l'abbiamo visto in queste prime giornate di campionato, non mancano. I giovesi dal tecnico Pietro Invantino dopo il pari di domenica scorsa con il Gladia Torra sul neutro di Leonforte vogliono ricominciare a vincere. È nel DNA dei giocatori giovesi. Siamo consapevoli del fatto che andare a giocare in Campania con quelle squadre lì è tosta, soprattutto dal punto di vista caratteriale perché siamo consapevoli che le squadre lì sono toste. Anche se a volte non sono squadre attrezzate tecnicamente, però sotto l'aspetto della voglia, della grinta e della cattiveria danno del filo da tolce. Noi affrontiamo sempre con la massima umiltà, metteremo più cattiveria possibile per cercare di portare i tre punti a casa. 8 punti nelle prime partite, un bottino importante per il Gera dopo le vicissitudini di quest'estate. Sì, assolutamente. Dopo le vicende che si sono verificate nei mesi estivi abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Siamo vogliosi e vogliamo portare avanti questa striscia di risultati positivi. Noi c'eravamo visti nel ritiro di Zafferra Nettnea e tu avevi detto ai nostri microfoni che questo Gera in questo campionato avrebbe stupito. Finora i risultati ti danno ragione. Sì, sì, assolutamente. Sappiamo che il Gera è una piazza che vive di calcio, quindi qui o si fa bene o si fa bene. Noi vogliamo questo alla fine, quindi il Gera dà filo da tolce da tutti, su questo non c'è dubbio. Per la partita di domani non sarà presente il neo arrivato in casa Biancazzurra e la difensore centrale Brugaletta. Il giocatore infatti al primo allenamento ha accusato un infortunio muscolare. Dunque con lo gregnano è probabile che scenda in campo la stessa formazione che ha giocato ultimamente. Domani ci sarà anche il vostro pubblico e i tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e il proprio incitamento. No, no, assolutamente. La tifosieria di Gela, me l'avevano detto anche prima di venire qua, è una delle più calde che c'è in Sicilia e nel sud Italia, quindi i tifosi non fanno mancare mai il loro supporto, anche se si tratta di affrontare chilometri e chilometri di distanza. Questa è una cosa che ci deve rendere assolutamente orgogliosi ed è una motivazione in più che ci spinge a fare bene, soprattutto per la gente che ci viene a vedere, assolutamente. Vai in campagna domani per vincere. Sì, sì, assolutamente. Il nostro obiettivo è quello sempre di portare tre punti a casa, assolutamente. È prevista per lunedì prossima alle 10.30 nei pressi dell'Istituto Majorana Plesso Fermi, in Contrada Marchitello a Gela, la cerimonia di inaugurazione del campetto di calcetto realizzato con fondi Fers Asse. Per l'occasione si terrà un triangolare di calcetto tra squadre dello stesso istituto e si esibiranno le alunne del liceo artistico e dei servizi sociali in due balli coreografici di apertura e chiusura della manifestazione. È scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Machitella a Gela. Il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. Per informazioni bisognerà rivolgersi ai numeri di telefono 338-7143-293 oppure 330-225-442 e ancora 0933-82-2707. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. A tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci.